Nessuna speranza per i dispersi in mare in seguito allo scontro tra una moto vedetta della Guardia Costeria Libica e la nave della ONG Sea Watch. Morte 5 persone, altre 50 disperse. Il Presidente del Senato spiega le ragioni della sua uscita dal Partito Democratico ricordando le origini con Bersani e Selle, ipotesi di alleanza tra Pisapia, Cuperlo e Speranza. Ostia, arrestato Roberto Spada dopo l'aggressione al giornalista di Nemo, Daniele Piervincenzi. Al microfono di Lumsanews, Atos e Luca e Don Franco De Donno. Federico Caffiero De Rao è il nuovo procuratore nazionale antimafia. Il magistrato, già procuratore capo al Reggio Calabria, eletto dal Consiglio Superiore della Magistratura, succederà a Franco Roberti. Paradise Papers, domenica saranno svelati i nomi degli italiani, imprenditori, personaggi pubblici e società coinvolti nei paradisi fiscali. Nuova Delhi avvolta dallo smog. Umidità e fumo hanno trasformato la capitale indiana in una camera a gas. In arrivo misure contro l'inquinamento atmosferico. Buongiorno e benvenuti alla nuova edizione del TG Lumsanews. Nessuna speranza per i 50 dispersi del naufragio dello scorso 6 novembre nel mar Mediterraneo, dove un gommone con dentro molti migranti è affondato. I morti accertati sono 5, una vicenda che ha avuto uno svolgimento molto particolare, come ci spiega Fabio Simonelli. 5 morti e una cinquantina di dispersi. È il bilancio del terribile incidente che ha coinvolto, lunedì mattina, una motovedetta della Guardia Costiera Libica e la nave dell'ONG Sea-Watch. Nel mezzo un gruppo di migranti, a bordo di un gommone semiaffondato. Una scena da girono infernale. Dalla barca della Guardia Costiera Libica decine di persone si sono buttate in mare per raggiungere mogli, figli e parenti che si trovavano sull'imbarcazione della Sea-Watch e quindi già in Italia. I libici, ignorando gli ordini dell'elicottero della Marina Italiana, hanno prima tentato di trattenere i migranti a bordo, con minacce e percosse. Poi hanno acceso i motori ripartendo a tutta velocità, lasciando così alla deriva i molti che si erano tuffati in acqua nonostante non sapessero nuotare. Per loro, che ufficialmente risultano dispersi, non c'è stato nulla da fare. La procura di Ragusa, che indaga sulla vicenda, nei prossimi giorni acquisirà la scatola nera della Sea-Watch e ascolterà le testimonianze di 59 superstiti portati a Pozzallo. E passiamo ora alla politica italiana. Il presidente del Senato, Pietro Grasso, continua a prendersela con il PD di Renzi e afferma che da quando non lo guida più Bersani sostanzialmente non esiste più. Renzi però continua a mostrare ottimismo. Il servizio è di Antonio Scali. Il PD di un tempo non c'è più. A dirlo è il presidente del Senato, Pietro Grasso, spiegando così la sua scelta di uscire dal Partito Democratico. Il vero PD era quello di Bersani insieme a Selle, quello del bene comune, ribadisce con un po' di nostalgia l'ex magistrato intervenendo al Festival della letteratura di Pescara. L'obiettivo di Grasso è adesso quello di tornare a essere un ragazzo di sinistra, autonomo e finalmente libero di poter esprimere le proprie idee. In questi giorni il presidente del Senato ha incontrato il leader di campo progressista, Giuliano Pisapia. L'esponente della minoranza Dem Gianni Cuperlo è il coordinatore di MDP Roberto Speranza. L'ipotesi è quella di creare un soggetto largo di sinistra. Per il PD l'obiettivo di una coalizione con la sinistra alternativa appare dunque sempre più complesso, nonostante il segretario Matteo Renzi continua a dirsi ottimista. Non ci sono problemi nel nostro partito, siamo tutti d'accordo e questa è una novità. E continua la tensione ad Ostia dopo l'aggressione al giornalista di Rai 2 da parte di Roberto Spada, il quale è stato arrestato ieri per l'episodio. Davide Di Bello e Siria Guerrieri si sono recati proprio nel decimo municipio di Roma dove hanno sentito gli ex candidati alla presidenza, Atos De Luca del PD e Franco De Donno. Roberto Spada è stato arrestato, fermato dai carabinieri con l'accusa di lesioni e violenza privata, con l'aggravante del metodo mafioso. L'aggressione al giornalista Rai Daniele Pier Vincenzi è scattata alla domanda sui presunti legami e l'appoggio elettorale dato dalla famiglia Spada a Casa Pound, che a Nuova Ostia, dove opera il clan, ha ottenuto il doppio dei consensi rispetto a tutte le altre zone del municipio. Le racconto un episodio. Una nostra candidata si è recata a Nuova Ostia da una persona che aveva un negozio conoscente per dargli dei bigliettini per la campagna elettorale. E questa signora gli ha detto, no, no, non le mettere lì sul bancone, le devo tenere qua nel cassetto. E allora gli ha chiesto, dice, ma perché devi metterle? Dice, perché qua le Spada hanno detto di votare per Casa Pound. In vista del ballottaggio, il ministro dell'interno Minniti e il capo della polizia Gabrielli si preparano a blindare le urne contro il rischio di ulteriori condizionamenti sul voto. La Spada e il clan si sentono accerchiati e questo è un sintomo di disagio che cominciano a sentire. Per quanto riguarda il ballottaggio, noi diciamo a tutti di andare a votare, primo. E secondo, di votare secondo coscienza. E c'è il cambio al comando della procura antimafia. Dopo più di quattro anni, Franco Roberti lascerà il posto a Federico Caffiero Derao a partire dal prossimo 16 novembre. Derao è un magistrato che ha condotto importanti inchieste giudiziarie contro Camorra e Andrangheta. Il servizio di Dino Cardarelli. Federico Caffiero Derao, attualmente a capo della procura di Reggio Calabria, è nuovo procuratore nazionale antimafia. L'ha nominato all'unanimità il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura dopo che l'alto candidato, il procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, aveva ufficializzato il proprio ritiro. Napoletano, 65 anni, Derao succede a Franco Roberti, il cui incarico terminerà il 16 novembre. Magistrato di lunga esperienza, già PM nel capoluogo campano, Derao ha legato il suo nome a due inchieste. Il processo Spartacus, durato dal 1998 al 2010 e che, scaturito dalle rivelazioni del primo pentito dei casalesi, Carmine Schiavone, ha portato alla condanna e al relativo azzeramento dei vertici del clan, a partire dal boss Francesco Schiavone, detto Sandokan, e al suo braccio destro Francesco Bidognetti, è l'operazione Metauros, risalente allo scorso ottobre, che ha visto l'arresto di sette persone, presunte affidiate alla cosca bioromaldi dell'Andrangheta, che aveva messo le mani sul termo valorizzatore e sul depuratore di Gioia Tauro. C'è grande attesa di conoscere i nomi degli italiani coinvolti nello scandalo dei Paradise Papers. L'inchiesta condotta da quasi 400 giornalisti internazionali. Il servizio di Nancy Calarco. Saranno svelati domenica in esclusiva dalla trasmissione di Retreat Report e dal settimanale L'Espresso i segreti di imprenditori, volti noti e società italiane coinvolte nell'enorme scandalo dei Paradise Papers. A farlo emergere nei giorni scorsi, l'inchiesta condotta da 392 giornalisti di 96 testate, contenente 13 milioni di file sugli affari di 120 politici di tutto il mondo, rivelati dal quotidiano tedesco su Deutsche Zeitung e dal Consorzio Internazionale del Giornalismo. Sono stati pubblicati i nomi dei clienti degli studi legali offshore Appleby e Asia City, come la regina d'Inghilterra, fino a volti noti della musica come Madonna, Bono e Shakira. Nei documenti riservati emergerebbero anche i rapporti riservati tra la Russia e il ministro per il commercio, Wilbur Ross, uno dei più stretti collaboratori di Donald Trump. Nei Paradise Papers anche gli affari illeciti di Stephen Bronfman, responsabile della raccolta fondi del premier canadese Justin Trudeau. Coinvolti infine i colossi Apple, Nike e Uber, che attraverso meccanismi societari avrebbero risfarmeato sulle tasse. L'India che corre ad un sostenuto ritmo economico conosce anche i tipici problemi di un paese avanzato. Stiamo parlando dello smog, che sta preoccupando sempre più le autorità locali per via delle conseguenze sulla salute degli indiani. Il servizio di Marina Lanzone. Questo aereo avrà qualche difficoltà nel decollo, non a causa della nebbia ma dello smog. L'indice della qualità dell'aria ha segnalato a Nova Delhi, capitale indiana, a un livello di 448 su una scala massima di 500. Il valore più alto è raggiunto durante l'anno, dopo quello del 20 ottobre, durante la festa delle luci, l'equivalente del nostro Natale. L'umidità è una coltre di fumo prodotta dai roghi dei contadini che ogni anno bruciano le stoppie. Hanno trasformato la città in una camera a gas, riducendo la visibilità per le strade e condizionando i trasporti. I cittadini cercano di proteggersi con l'uso di mascherine e purificatori, ma tutto ciò non basta. Nel principale ospedale indiano si è registrato un aumento del 20% di pazienti con problemi respiratori e cardiologici. Il governatore di New Delhi, Manish Sisodia, ha ordinato la chiusura delle scuole per tutto il weekend e le autorità sanitarie hanno consigliato alle persone di non uscire se non strettamente necessario. Il governo intanto sta preparando diverse misure, come evitare l'ingresso di camion in città e la circolazione a targa alterne per ridurre il traffico. E dai problemi dell'aria passiamo a quelli dell'acqua. Ancora problemi a Roma per via dell'eccezionale siccità verificatasi quest'estate e che ha convolto in particolare il lago di Bracciano. La CEA sta cercando di fare di tutto per risparmiare acqua, creando anche malumore tra i cittadini. Il servizio è di Giordano Contu e di Gloria Frezza. L'autunno è arrivato nella città di Roma, ma i problemi legati all'eccezionale siccità estiva non si sono ancora risolti. Una mancanza storica, quella che quest'anno ha interessato la capitale è l'intera regione Lazio, dove il lago di Bracciano è arretrato di 40 metri in più rispetto ai livelli normali, una cifra record. Dal 6 novembre, a CEA è entrata nella seconda fase della sua campagna per il risparmio dell'acqua, che ha permesso di salvare 2300 litri al secondo finora. La società punta a fornire ai cittadini consigli per l'uso corretto delle risorse idriche. Abbiamo chiesto ai romani se ne erano a conoscenza e cosa pensano della situazione di emergenza. Sì, sono a conoscenza di queste misure di precauzione e le trovo corrette, anche se in certi contesti legati per esempio al fatto della chiusura delle fontanelle, almeno della grossa parte delle fontanelle della città di Roma, non sono totalmente d'accordo. Comunque cerco sempre di non sprecare troppa acqua quando fai la doccia, quando ti lavi i denti, di queste cose che comunque spero dovrebbero fare tutti. Penso che ci siano molte colpe da parte dell'istituzione su questa cosa perché c'è uno spreco d'acqua in effetti, anche le condotte sono tutte da rifare. Mi auguro che il Comune faccia ancora di più, però che sia un po' attento alle esigenze di tutti. Il problema delle fake news è sempre più forte e distinguere le notizie vere da quelle false è una questione che si pone anche nel giornalismo di guerra. Ce ne parlano Alessio Foderi e Antonio Scali che sono stati per l'Umsa News al Festival della Diplomazia 2017. Nel mondo della comunicazione, il problema della disinformazione nei conflitti mondiali appare sempre più concreto. Come orientarsi quindi nell'eccesso di notizie che arrivano da più fonti, specie in zone di guerra? Se ne è parlato al Festival della Diplomazia 2017 in un evento organizzato dall'Università l'Umsa. La tavola rotonda, moderata dal professor Giampaolo Malgeri, ha visto la presenza di professionisti come Matteo Bressan, analista presso il Dipartimento Difesa della Nato e Claudio Melchior, docente di comunicazione all'Università di Udine. L'inviato del Tg1, Amedeo Ricucci, ha specificato cosa caratterizza un buon inviato di guerra. La sua capacità di districarsi nel mare magnum della propaganda. La propaganda è stata da sempre un'arma di guerra. Tutti gli eserciti l'hanno usata, aggiungo anche legittimamente, perché la guerra, quella vera, la si combatte non sui campi di battaglia, ma sulla capacità di influenzare l'opinione pubblica internazionale. Proprio perché questa distinzione è difficile, sono nate delle associazioni che fanno fact-checking, ossia il controllo della veridicità delle notizie, come ricorda la giornalista del Tg5, Domitilla Savignoni. La vera problematica per noi giornalisti è stata distinguere notizie false da notizie vere, ma anche immagini false da immagini vere. I centurioni tornano a Roma e riprendono a farsi le foto con i turisti ed ora chiedono al Comune di essere regolarizzati attraverso un registro. È infatti scaduta la circolare della sindaca Virginia Raggi che proibiva agli uomini mascherati con il tradizionale abito romano di svolgere la loro attività. Il servizio è di Davide Di Bello e di Giulia Torlone. Roma non può essere ostaggio di centurioni e risciò, così twittava la sindaca di Roma Virginia Raggi il 28 aprile scorso, ma l'ordinanza del Campidoglio che vietava qualsiasi attività dei finti centurioni è scaduta da otto giorni, lasciando un vuoto normativo. Così tra il Colosseo e i fori imperiali sono tornati gli uomini in costume storico che chiedono una regolarizzazione da parte del Comune, come ci spiega un rappresentante della categoria. Dovrebbero fare una scrematura, mettere una persona che si prenda la responsabilità di trovare queste persone, metterle a lavorare, dare un lavoro, cioè come un lavoro regolare. Io diciamo che dal 98 che faccio questo tipo di lavoro ho fatto tante manifestazioni, sono andato al Campidoglio un sacco di volte, ci siamo fatti sentire, abbiamo dato una lista, all'epoca avevamo il 121 d'Ups, che era una licenza, un permesso che ci dava il Comune di Roma, doveva avere l'antimafia per esercitare questo tipo di lavoro, tutto quanto. Diciamo che io ho una storia qua, ho buttato una storia, ci ho accampato una famiglia tutt'ora, e perciò noi chiediamo, abbiamo sempre chiesto di essere regolarizzati, sono loro che ci vogliono lasciare abusivi. E per questa edizione del Tg Lumsanews è tutto, arrivederci ai nostri ascoltatori. Grazie.